12 aprile 2022 messaggio della regina della pace di anguera la ricerca del potere farà nascere nuovi giuda cari figli state andando verso un futuro di grande corruzione spirituale la ricerca del potere farà nascere nuovi giuda e il dolore sarà grande per gli uomini e le donne di fede non vivete lontano dal mio gesù lui è il vostro tutto e solo lui è la vostra salvezza io sono la vostra madre addolorata e soffro per quello che sta arrivando per voi piegate le ginocchia in preghiera l'umanità è spiritualmente cieca perché gli uomini si sono allontanati dal creatore non dimenticate in tutto dio viene prima siate onesti nelle vostre azioni e vedrete la potente mano di dio all'opera andate avanti in difesa della verità questo è il messaggio che vi do oggi nel nome della santissima trinità grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta vi benedico nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen andate in pace